Ora abbiamo il professore Lattuada, Luigi Lattuada, che è direttore della scuola di formazione in psicoterapia transpersonale di Milano e ha un titolo, lui mi piacciono questi titoli molto che hanno un mix e mi fa piacere ascoltarlo perché appunto poi diciamo attraverso quello che dice ci trasporta in un mondo in cui ci sono intrecci vari anche anche con credo in questo caso questa volta anche con il mondo primitivo, lui è stato in Brasile, ha vissuto in Brasile, ha incontrato anche. Grazie Alfredo, è interessante perché io sono abituato ormai a sapere che le cose hanno una loro sincronicità per cui quando mi hai proposto di esserci ancora questa volta ho detto ma io che centro con la psicologia di comunità? Però ho detto sì subito e poi ho cominciato a riflettere dunque allora qual è il contributo che mi posso dare? Ah già sì dunque ho fatto una tesi con Basaglia a Trieste, sulle comunità terapeutiche, le case allogge, poi sono stato in Brasile sì con nelle tribù gli indios eccetera e allora ho cercato di comprendere, di comprendere quale fosse il contributo che potessi dare e mentre ascoltavo voi cito alcune delle parole che avete detto dal legame della socialità a il romanzo personale, allo stima, all'empowerment della comunità piuttosto che alla sindrome del greggio no? E man mano che tu nominavi queste cose c'è ecco certo allora io vorrei introdurre un termine che è già nel titolo vorrei introdurre una medicina che secondo me nella nostra società è trascurata completamente che è il cerchio il concetto di cerchio se voi ci riflettete nella nostra vita nel nostro modo di pensare magari non proprio nel nostro specifico ma tendenzialmente l'approccio è un approccio quadrato è un approccio lineare l'approccio circolare al massimo certo la sistemica ha questa visione circolare ma il percepire il cerchio cioè il percepire il campo in ogni situazione a mio avviso è un elemento che dovrebbe essere considerato e che potrebbe dare un contributo a tutto quello che abbiamo detto adesso non voglio farla troppo teorica ma incomincio a dirvi quindi parto un po' dalla storia così magari comprendiamo un po' meglio quello che voglio dire col concetto di cerchio come dicevo mi ricordo a Trieste le case alloggio il tentativo di prendere in carico il disagio come parte della società però tutto questo lo sentivo con una certa tristezza con una certa ideologia come se mancasse qualche cosa non sapevo bene cosa avevo 28 anni e poi sono finito in Brasile io do al Brasile il merito di avere favorito una mia che potrei dire rinascita spirituale e in Brasile incontro ho incontrato i rituali Yoruba, i rituali afro-brasiliani dove il gruppo, cioè la gente si prende per mano, canta insieme, danza insieme la gente va a curarsi e viene curata insieme e c'è e tu senti questa presenza, questa forza del campo questa forza del cerchio senza andare in termini troppo esoterici però che cosa in termini proprio di comportamento io da medico occidentale ci sono andato le prime volte con un giudizio ipercritico con sì vabbè ma queste cose magico superstiziose e ho portato tutta la mia occidentalità al cospetto di queste cose adesso ve la faccio breve ma ho avuto delle trasformazioni profondissime proprio lì dentro e allora ho compreso il potere del cerchio è intanto che la persona rompe il proprio isolamento a proposito di stigma, rompe il proprio isolamento la malattia fondamentalmente è un viaggio nell'ombra e una separazione il cerchio ti offre, ti accoglie e quindi rompe l'isolamento ti offre ascolto e ti offre un luogo sicuro, un temenos, uno spazio sacro dove affrontare il tuo viaggio di ritrovamento di te, dove ritrovare il tuo daimon, dove permetterti di entrare nell'ombra vivere tutta la tua ombra accolto e sostenuto e riuscire in più il cerchio ti offre la molteplicità non c'è questa linearità io col terapeuta, io e te o magari se andiamo in un'ottica lineare adesso va di moda la multidisciplinarità, fare rete, ma sono diversi individui che ognuno pensa alla sua parte. Il cerchio, inteso in questo senso e poi lo vedremo anche in un'ottica psicoterapeutica, diventa il luogo dove non c'è il terapeuta che cura ma le diverse posizioni sono posizioni archetipiche, offrono diversi sguardi alla persona e la persona può appunto comprare il suo viaggio essendo guardato da diverse posizioni ricevendo diversi livelli di qualità, di risorse, cioè può accedere all'archetipo e alla molteplicità degli archetipi che ci sono all'interno di un cerchio, di una comunità. Questi sono alcuni degli aspetti in più vive un'esperienza integrale, non mentale, perché se poi torniamo alla visione semplicemente alla visione olistica, oppure anche alla visione gruppoanalitica o alla visione umanistica di Rogers e via di seguito, sappiamo che la totalità è più della somma delle parti. Il cerchio, perché dicevo la medicina, il cerchio introduce all'interno di qualsiasi relazione la medicina dell'ineffabile, la medicina perché io parlo di transpersonale o di spirituale, introduce quel qui di in più che non lo nomini e non lo cogli nelle parti. E' certo che è ineffabile, ma è qualche cosa che ciascuno dice, non a caso è il cerchio, non è il quadrato. E' qualche cosa di ineffabile, è qualche cosa che nessuno riesce a cogliere, se non... come fai a cogliere l'ineffabile? Come fai a cogliere il potere che il cerchio ha che è più della somma delle parti? Lo puoi fare con il vuoto, con l'ascolto, con la padronanza dell'esperienza interiore, con il riconoscimento di ciò che c'è oltre il palcoscenico, che magari non è almeno nominabile, appunto è ineffabile, ma è qualche cosa che nasce come? Attraverso l'insight, attraverso il sentire, la riconnessione con il sé. La malattia è prima di tutto perdita di contatto con il sé, se lo diciamo in psicologia. Se lo diciamo con un'ottica sciamanica è perdita di contatto con lo spirito, dell'anima del mondo. Se lo diciamo in un'ottica sociologica è perdita di contatto con la comunità. E' comunque una disconnessione, ma questa disconnessione non la raggiungi cercando di mettere insieme dei pezzi. La connessione la raggiungi creando un campo unitario, favorendo nella persona la percezione dell'unità. Accogli attraverso un pensiero razionale, il quale è nel quadrato. Relevate prima di pensiero critico? Certo, il pensiero critico è un ottimo livello, ma a mio avviso è il terreno da quale spiccare il volo. Devi avere un pensiero critico per superare il wish of thinking, per superare le proiezioni, per superare i pensieri mitologico o magico, ma dal pensiero razionale, dal pensiero critico del quadrato, questo il pensiero critico del quadrato non dovrebbe impedirci di cogliere l'ineffabilità del cerchio, che io chiamo pensiero integrale, oppure il pensiero intuitivo, che il pensiero integrale è più del pensiero intuitivo, è quel essere pensati dal sé. E allora l'accesso a questo, perché viene così trascurato? Perché noi trascuriamo l'esperienza interiore, noi trascuriamo il silenzio, il vuoto, l'ascolto, noi trascuriamo il lasciare andare. Tutto questo che io ho conosciuto partendo dalle prime esperienze brasiliane nell'82, però è assolutamente in linea con tutto quello che noi possiamo pensare in un'ottica di meccanica quantistica, in un'ottica delle antiche tradizioni spirituali e anche in un'ottica psicologica, diciamo così, più avuto, o in un'ottica di esperienze interiore. Cosa ci dice la fisica quantistica? Il vuoto è il luogo dal quale tutto emerge, oppure il flusso di coscienza quantica con l'asso della funzione d'onda. Sono aspetti che sostengono il valore e l'importanza di rintrodurre nella nostra società un concetto di cerchio, cioè di sguardo unitario. Il cerchio è anche l'archetipo dell'un, dell'unità ovviamente, che può essere chiaramente o l'uroboro, cioè nel quale tu continui a girare a vuoto, oppure l'unità, la perla dell'inizio, direbbe Neumann, credo. Quindi il luogo dove tu ritrovi l'unità. Ma questa unità non la ritroviamo, come ho detto prima, a mio avviso, mettendo insieme delle diverse professionalità. La ritroviamo facendo in modo che ciascuno raggiunga la sua unità interiore, la propria integralità. E allora ripensiamo al cerchio. Anche noi qui in questo momento, anche se siamo in uno schermo super quadrato e lontano, questo è quello che avviene sul palcoscenico. Ma se noi facciamo un minimo di attenzione, io dico che c'è una prima attenzione che è quella ordinaria. La prima attenzione è, stiamo partecipando a una conferenza online davanti a uno schermo con dei quadratini. Nella seconda attenzione siamo in un cerchio, siamo in un campo di eroi in viaggio, eroine in viaggio verso se stessi che stanno dando un contributo all'umanità. Percepire questo già è precipire il cerchio, percepire il campo che c'è tra di noi, seppur a distanza, seppur. E questo campo, come lo percepiamo? Attraverso un'espansione dello stato di coscienza. Nella mia prima attenzione sto ascoltando te, guardo i nomi, chi sarà questa signora, Anna Rita, Rosaria, chi sono, ma no? Prima attenzione, quadrato, giusto? Cerco di essere gentile, simpatico, ascoltare. È tutta prima attenzione, è tutto quadrato. Nel cerchio io ascolto, ti guardo negli occhi, sto in silenzio, o in silenzio dentro quantomeno, e colgo il campo che c'è tra di noi. E questo campo non è una fantasia new age o chissà che. Questo campo è concreto, perché questo campo è il cerchio che è fatto dalla somma delle parti. È qualche cosa di più di noi insieme. Noi qui siamo qualche cosa di più di noi stessi. E questo qualche cosa di più è il cerchio. La metafora del cerchio vuole descrivere anche questo qualche cosa di più che c'è tra di noi in questo momento. Non solo, ma se noi immaginiamo questo come cerchio, sentiamo, o meglio, ci vediamo come cerchio, cosa succede? Ciascuno è al proprio posto. Quindi non c'è trovare il proprio posto. Tu sei nel cerchio e ti rendi conto che questo è il tuo posto. E vedi che tutti gli altri sono al loro posto, come i punti del cerchio. Il cerchio come principio unificante ci consente di cogliere che ciascuno di noi è al proprio posto. E quindi cosa succede se ciascuno di noi è al proprio posto? Se io sono al mio posto, tu sei al tuo posto. Cioè tutto è perfetto così. Che non è ancora una volta un'attività del New Age. Tutto è perfetto così vuol dire che la sincronicità di quello che sta avvenendo in questo momento è frutto del Kairos. Ognuno di noi con la sua storia, con la sua vita, con tutto quanto quello che è, con i suoi pretesti per essere qua oggi, si ritrova in questo momento a incontrarsi e a convergere in un cerchio. Ciascuno al suo posto a sentirsi dire quello che si sta sentendo dire, a avere detto quello che sta dicendo, ad ascoltare o non ascoltare e gli ha risseguito. Perché dicevo prima, se noi introduciamo la medicina del cerchio proprio come mandala, come principio ordinatore della nostra esperienza. Nulla di quello che abbiamo fatto o detto o quello che siamo va cambiato. Ma a proposito di empowerment della comunità, se noi ci vediamo come cerchio, tutto quello che noi possiamo dire fare acquista un valore ulteriore, acquista un potere. Le tradizioni antiche, sapete che cosa? Una delle cose principali, dicevo prima, è come se qualche cosa mancasse. Cosa ho trovato in quei cerchi tradizionali? Quella cosa che loro chiamano la shé. Che cos'è la shé? E' il potere del cerchio. C'è un potere spirituale che noi possiamo riconoscere quando ci ritroviamo insieme. Quando una comunità, dicevate, stiamo parlando di comunità, una comunità, se noi cogliamo che una comunità è di più della somma delle parti, noi possiamo prenderci conto che in psicologia transpersonale si chiama il sé transpersonale. Ogni individuo ovviamente è un sé che nel suo posto nel cerchio interagisce con un sé transpersonale. La coscienza collettiva, l'inconscio collettivo di Jung, con una dimensione che ha una sua, potremmo dire una sua, è psichicamente significativo, ha una sua forza, una sua azione e una sua capacità di cura e di trasformazione, perché è un archetipo unificante, è un archetipo che favorisce l'armonizzazione, è un archetipo, c'è un luogo, un temeno su uno spazio sacro che accoglie chiunque sia all'interno di questo spazio si senta parte e voglia comprare il suo viaggio di graduale armonizzazione delle proprie ombre, di graduale superamento dei propri individualismi verso la sinergia e la sintonia con il cerchio. Concludo dicendovi questa cosa, nelle tribù, ma in varie tribù, in questo caso mi riferisco ai Kayapo dell'Amazonia, tendenzialmente le tribù, i villaggi degli indio sono in cerchio, sono capanna in cerchio. Nel mezzo dell'aldeia cosiddetta del villaggio c'è la casa del guerriero. Qual è la funzione di questa casa del guerriero? Quando una persona ha un problema, magari un problema tra marito e moglie, magari una malattia, una sofferenza, una paura, va nella casa del guerriero, al centro e incomincia, cosa dicevi tu prima, legame della socialità, narrazione personale e racconta a voce alta il suo dramma, racconta a voce alta il suo problema e tutti quanti stanno ad ascoltare. Oppure pensiamo al talking stick, bastone per parlare. Nelle tribù la cota invece si siede nel cerchio ovviamente, c'è un bastone in mezzo, ognuno che deve parlare si alza, va a prendere il bastone, torna e parla e quando lui parla ha il potere del cerchio e tutti gli altri stanno in ascolto. In ascolto a proposito di stigma, a proposito di diversità, a proposito di non ascoltare, stanno in ascolto fino a quando ha finito e mette giù il bastone e l'altro prende il bastone e se deve dire qualcosa parla. Pensiamo ai nostri politici in tv e possiamo capire la differenza tra un quadrato e un cerchio. Questi sono alcuni aspetti che volevo sottolineare, credo che magari se poi volete fare un commento magari aggiungo qualche cosa dopo. L'ottica che proponi è affascinante perché tu ci riporti a un cerchio che è magico, ma magico non perché ci sono i fantasmi oppure le streghe, ma è magico perché si riattiva l'archetipo. In questo archetipo c'entrano tutti i sottoarchetipi, le varie figure rappresentative. Penso che quando gli indios si mettono le maschere vogliono rappresentare parti dell'essere umano che però hanno radici profonde, lontanissime. Sto provando a braccio, diciamo a capire a braccio. Tutto questo certamente è molto molto affascinante. Ma non è che affascinante perché deve essere affascinante, ma perché diciamo l'essere umano ha bisogno, ci sono i bisogni dello spirito, così come ci sono i bisogni dell'anima e ci sono i bisogni dello spirito. E i bisogni spirito sono collegati a tutta questa spiritualità che non è ecclesiastica, voglio dire, ma senza voler essere polemico con niente. Ecclesiastica, voglio dire, non è istituzionale. È una spiritualità spontanea che nasce dalla condivisione. Quello che dici è assolutamente perfetto. Mentre parli, hai accennato la spiritualità e mentre ne parli, la cosa assurda è che tutti quanti si riempiono la bocca di scienza e tendenzialmente si vede la spiritualità come una cosa diffidente rispetto alla scienza. Più scientifico della spiritualità, non so se c'è qualcosa o d'altro, perché la spiritualità è quel quid in più della somma delle parti, semplicemente. È quel quid in più che c'entra di noi. È quel fatto che ti fa sentire, ah, sì, ti ho capito, sono in sintonia oppure non sono in sintonia. Ah, sento che mi si espande il petto e respiro meglio oppure mi sto annoiando. Quindi il recupero di una spiritualità laica, il recupero di non avere, di un diritto alla spiritualità, di non avere paura di parlare di spiritualità, perché la spiritualità è l'essenza di ogni cosa. È ciò che dà il mana, direbbero gli antichi, no? Il potere di un oggetto ha un mana e il mana è lo spirito dell'oggetto. Cioè, come abbiamo detto, che cosa fa sì che questo abbia uno spirito? Voi parlate di relazione, giusto? Ma la relazione non è due, la relazione è tre. È io, tu e il campo che c'è tra di noi. La relazione tra di noi non è a sei, è a sei più l'unità. E questa unità è la spiritualità. Possiamo chiamarla come vogliamo, ma è quella cosa lì. L'essenza che se non cogliamo stiamo perdendo quello che unifica, quello che veramente cura. Per questo io l'ho parlato come cerchio, perché la metafora del cerchio può stare per spiritualità, può stare per campo, può stare per essenza, può stare per unità, può stare per espansione della coscienza, può stare per metafora di una semantica di secondo livello. Però certamente è qualche cosa che è stato perduto, non si guarda più. È come, è un'altra, introdurre il cerchio, per me è un'altra rivoluzione come quella copermicana. Ai tempi non volevano guardare nel telescopio per la terra. Allo stesso modo dobbiamo guardare nel telescopio del vuoto, nel telescopio dell'ascolto silenzioso, perché da lì troviamo l'essenza del nostro. E l'essenza stessa dell'atto di guarire l'essenza stessa del processo trasformativo della comunità, per esempio. Ma mi verrebbe utilizzare una parola a proposito della condivisione, la coinodinia, cioè mettere in comune il dolore. Mi verrebbe di declinare anche quello che sta dicendo il professore con la mente gruppale o la funzione gamma di cui parla con Rao. Insomma, ci sono vari accostamenti che ovviamente mi vengono in mente rispetto a ciò che ho sentito. La cosa bella è questa, è detto in tantissime situazioni. C'è Amit Goswami, per esempio, che è un fisico indiano che ha insegnato all'università dell'Oregon per 30 anni, ha scritto diversi libri tra i quali The Self-Aware Universe, l'universo autocosciente. Lui riporta una descrizione straordinaria di questo concetto e dice ma la nostra scienza da 400 anni ha messo la materia alla base dell'universo. Tutti danno per scontato che alla base dell'universo c'è la materia, ma lui dice guarda che la fisica quantistica, si dice che alla base dell'universo c'è la coscienza. E allora pensa alla rivoluzione copernicana. Se tu cogli, e ovviamente si parlava prima di educazione, un'educazione all'esperienza, una epistemologia e ovviamente delle tecnologie poi che ti insegnino a guardare il mondo come se alla base dell'universo ci fosse la coscienza. Mi vorrebbe da dire forse anche la comunicazione inconscia, non soltanto la coscienza. Certamente, la coscienza nei suoi livelli inconscio, conscio e superconscio, certamente. Poi c'è tutto un discorso molto complesso, cioè complesso ma anche semplice. L'idea è che il collasso della funzione d'onda attraverso l'osservazione fa collassare e quindi quello diventa la coscienza. Quanto più sei creativo, quanto più fai collassare una coscienza superconscia, cioè oltre le tue abitudini, oltre le tue credenze, oltre i tuoi condizionamenti, quanto meno sei consapevole, quanto più agisce la coscienza inconscia e quindi agisci secondo schemi ripetuti. Il copione, pensa al copione familiare, ai copioni culturali. e quindi mette la creatività interiore come elemento di base per questa capacità di connettersi, quindi di fare collassare, diciamo così, una coscienza superconscia piuttosto che inconscia. Mentre parlavo, mi veniva in mente, prima accennavo a Croce che parlava della sovranità della relazione. In realtà non ci avevo mai riflettuto, però probabilmente, poi non so, comportatemi se può essere così, arrivare a dire che in uno Stato non c'è né sovrano né suddito, perché in realtà la sovranità della relazione, considerando anche che Croce era un po' il padre della politica degli istinti, che riprendeva un po', diciamo, l'idea del cerchio egeliano, e quindi della chiusura del cerchio, pongo una domanda. Questa sovranità della relazione, credo di poter dire che veramente sia, come diceva il professor Lattuana qui, qualcosa di più del semplice essere due. Cioè, la sovranità della relazione significa che non siamo più due, ma siamo almeno tre, o siamo tutti quanti, in quella pluralità di varietà, di attitudini, di confronti, di diversità, creiamo, ecco perché la sovranità. Veramente, grazie, non ci avevo mai pensato. Assolutamente sì, e capisci che quando lo vedi è evidente che la relazione è tre e non è due. E allora, se noi cogliamo che la relazione è tre e non due, questo è uno dei punti epistemologici, diciamo così, che mi sono nati dalle esperienze in Brasile in poi. Se noi comprendiamo che la relazione è tre, cioè uno, cioè uno, la Trinità, cioè uno, capisci che la nostra vita cambia, tutto quello che sappiamo rimane, ma cominciamo a comportarci in modo diverso, cioè avere bisogno di un'epistemologia diversa, di una fenomenologia diversa, di una nomenclatura diversa, nominare le cose in modo, narrarle in modo diverso. Se io guardo la comunità, tu parlavi prima di associazionismo, guarda l'associazionismo come il cerchio in azione. Io ho fatto sempre l'insegnante, praticamente uno dei miei miei fratelli, sono avvocato, insegnato. Io ho spessissimo, forse senza riflettere particolarmente su questa tua idea del cerchio, e forse neanche sull'idea, che ne so, di Croce, di Hegel, quindi l'importanza del cerchio comunità, ma forse inconsciamente sì, perché ho sempre fatto, molto spesso, tutte le volte che potevo, lezioni in cerchio. Quindi quando ci siamo incontrati con i ragazzi, mi hanno sempre detto che il bello, il pascio, il piacere della mia lezione è appunto questa posizione che favorisce veramente lo scambio. Non ci avevo riflettuto, però posso dire una cosa critica? Sì. Io, è bellissimo quello che stiamo dicendo, è il fondamento della comunità e dalla comunità rinasce la vita. Ho l'impressione, io purtroppo posso dire, e per il mio lavoro, i miei lavori, e per l'incontro con gli altri, che ormai la burocrazia ha invaso tutti i campi. Il medico è un burocrate, l'insegnante è un burocrate, l'ingegnere è un burocrate, l'avvocato purtroppo è un burocrate. Ecco, io credo che se noi non ci stacchiamo da questa situazione in cui veramente stiamo togliendo umanità, altro che l'unità del cerchio, qui siamo proprio delle monadi isolate, degli atomi, che non riescono più a far vivere la loro umanità. E allora, sì, ripartire dalla comunità, ma rifondare la società politica purtroppo. Bisogna avere un'esperienza diversa per fondare una società diversa che veramente riscopra il valore della comunità. Attenzione che la comunità in questo senso, secondo me, è anche umanità. E come diceva Kant, l'umanità è dignità e la dignità è umanità. Guardate che togliere questa dimensione del cerchio, questa dimensione della relazione, ridurre tutto ad atomi a burocratizzazione, significa togliere l'umanità, eh? Perché io sono molto ormai, diciamo così, legato a questa visione transpersonale del cerchio, di seguito e tutto quanto. Io negli anni, prima di andare in Brasile, era il 68, quindi figurati, cambiare il sistema, cioè assolutamente sì. Poi sono andato altrove. Dobbiamo andare altrove, come hai detto giustamente, ma questo andare altrove è uno stato di coscienza, che io lo sintetizzo con passare da un quadrato al cerchio. Tu non puoi fare il burocrate se cogli il cerchio. Faccio lo psicoterapeuta e vengono da me tante persone il cui problema principale è loro qual è il lavoro che hanno. Non ce la fanno più, però bisogna cosa? Disidentificarsi dal ruolo. Se tu vedi che sei burocrate, perché il cerchio come luogo dove le ombre vengono a poco a poco. Se tu sei isolato nel tuo fare il burocrate, ti guardi intorno, vedi gli altri burocrati e dici, vabbè, ma se io lascio, cosa faccio? Sei isolato, separato, disconnesso. Se tu, se si creano cerchi e tu che ti senti non più solo e stai lì con tutti i tuoi pretesti a fare il burocrate e sai che c'è il cerchio, esattamente come fanno, abbiamo fatto per millenni prima della storia. Vai nel tuo cerchio e ti metti a piangere, a urlare, a dire ma cosa sto facendo? Sono qui e il cerchio ti accoglie, ti ascolta e ti aiuta a processare le tue ombre e tu trovi un altro, un altrove dove andare. Bellissimo, questa metafora è bellissima, quest'ultima tua metafora è bellissima, questo ritornare a piangere nel cerchio, perché diciamo ci manca forse anche il luogo dove piangere, fa pensare a degli spunti assolutamente affascinanti.